Il GRM Volley Club Arezzo batte in trasferta il Foiano per 3-0, torna così il sorriso nella pattuglia a Maranto, tornano tre punti importanti in una classifica che cominciava a preoccupare. Il turno vedeva il ritorno da avversari di Zampetti e Gialli per anni registra della squadra, un match che non ha minimamente deluso il pubblico presente sia sotto l'aspetto tecnico che dal punto di vista emozionale. Il Foiano ha affrontato senza alcun timore reverenziale i più quotati avversari con sorprendenti fondamentali e ottimi giocatori. La sua classifica non è certo veritiera. I parziali 25-23, 25-18, 25-20 per il 3-0 finale della squadra di Morelli. Quanto entusiasmo alla fine, ma quanta passione, quanta sofferenza in panchina tutti i 3-7 sul punto a punto fino al 15. Abbiamo avuto un mese di dicembre molto difficile per varie ragioni, dove i risultati sono venuti meno, molto per colpa nostra. Abbiamo parlato con i ragazzi, ho chiesto nel rientro delle vacanze di lavorare per cercare quella scintilla che ci avrebbe consentito di tornare a vincere e divertirsi perché logicamente le sconfitte anche pesanti e non previste che abbiamo subito a dicembre un po' avevano, come dire, rabbugliato lo spogliatoio. Ragazzi sono stati bravi a capire quello che io volevo. Stasera hanno cercato una scintilla sul 9-4 per il Foiano nel secondo set. Hanno cercato appunto questa scintilla che volevo e abbiamo chiuso la partita in maniera meritata. Poi la sofferenza c'è sempre, anche quando vinci 3-0, quindi figurati dopo tre sconfitte consecutive.